e vedremo quale sarà il suo leggermente il quintetto perché ha inserito al posto di Carter un piccolo Stipcevic questo perché Sassari soffria molto la velocità della coppia Goss e Moore e quindi ha provato ad adeguarsi Baie contro Sacchetti, ancora Baie lo scarico per Scott, delizioso il primo assist sullo scout, il francese, 16 a 4 per Dura Scott, il quarto personale pugno alzato, si ferma in gioco il blocco di Olaseni, l'uscita di Stipcevic, l'errore al tiro Piozzo Nodon, l'uscita per il numero 23 Carter, l'errore al tiro, Sacchetti recupera il pallone due falli dentro il capitano Marco Cardillo sfida tra Gregari direi, Cardillo contro Sacchetti va a marcare il capitano in cuore 14 della prima attacca la formazione sassarese, 9 secondi Odovi, il ribaltamento intercetta Scott e poi viene questo, possono stare sugli anticipi difensivi probabilmente l'adito poi ha punito la fine della corsa verso il corpo di Sacchetti, ne approfitta Sassari che può attaccare la finta e poi l'errore al tiro di Olaseni, Brindisi che parte in contropiede con lo Spangaro, consegna a Goss, mantiene addirittura tre piccoli coach Sacchetti con Ur, Goss e Spangaro il raddoppio, Carter la finta di passaggio libero da tre punti, l'errore per il numero 4 recupera Stipcevic che con lo schema pugno prova ad attaccare la difesa biancazzurra Nesi, il blocco di Brian Sacchetti fallo in attacco tre minuti e cinquantadue secondi da giocare nel primo quarto Mur, sul blocco di Ashmeleza ancora Mur tra lo slalomo tra due difensori e poi quella frazione di set il momento di Nick Mulcher, Paolo tecnica pure e soprattutto velocità di esecuzione palleggio, arresto e tiro Mur ci ha abituato a questi colpi che avevamo visti prima del suo arrivo a Brindisi su Youtube, ora li stiamo vedendo dal vivo e devo dire che è un giocatore eccezionale si sta confermando tale anche se questa volta in difesa peccato un po' di no e intanto inutile l'intervento di tre minuti e quindici secondi da giocare Brindisi che comunque guida questo match autorevolmente con un vantaggio di dodici punti ormai mediamente acquisito seguiamo Phil Goss qualche difficoltà raddoppio su di lui e in tutti questa pressione è data dal tecnico di Lugini Emiliane in paletto Stipcevic Brindisi ancora con la difesa l'uomo disturba Spangero l'uscita è di Cattery dopo di Zacchetti un pick and pop si allarga Brian Zacchetti però si preferisce servire Stipcevic i palleggi di avvicinamento da tre punti Brian Zacchetti partenza stessa mano stesso viene alza la parabola tocca Cardillo recupera Spangero situazione di due contro tre Goss riceve da tre punti e la spinta di Ola salendo di intensità anche Francesco mi pare piano fisico intanto sicuramente Brindisi con Spangero in posizione centrale chiede due blocchi sale Acquapelese il taglio del numero uno ancora Spangero in seguito da Ola se in scena Spangero richiede ancora il pallone con la mano sinistra vogliamo dire una delle migliori cose che ci ha fatto vedere Spangero da quando è a Brindisi beh solitamente l'ha tentata con la mano destra e non è mai riuscita questa volta con la mano sinistra è andata a buon fine però consentimi di dire una cosa Brindisi ha scelto tatticamente di giocare con tre piccoli ed è sicuramente una soluzione tattica che sta pagando da un punto di vista più pensivo perché nonostante il mismatch a cui si sottopone sta comunque numero 15 fuori Phil Goss sempre la difesa uomo per la Dinamo il taglio di Mur arriva centrale riceve Cardillo il ribaltamento non c'è lo stesso Cardillo a scalare poi il palleggio sul lato destro Acquapelese nel primo quarto 20 a 6 più 14 Brindisi che deve difendere da questo attacco della formazione tolana il blocco di Savano che si fa dentro il fallo Coach Pasquini dovrebbe aver chiesto la zona ai suoi per questo minuto e 29 secondi che mancano da 11.7 la sua media partita col 38.5 da due punti e il quale realizza i primi 4 punti per lui 20 a 8 ed ecco la zona una fronte disperi con Sticevici che accompagna però il taglio del lungo centrale Spanghero ancora 8 secondi per trovare il tiro il blocco di Agvelese Spanghero contro Devecchi può acciorzare la penetrazione chiude l'arresto ancora Spanghero 22 a 8 e il quarto personale per Spanghero ultimo minuto del primo tempino Devecchi il taglio in Lesei c'è un mismatch contro Mur Lesei prova a raddoppiare Savanovic centrale per Sacchetti la chiusura di Donzelli di Fisico Donzelli ancora Savanovic da tre punti molti nuovi nella compagine isolare Rucco Savanovic 22 11 Mur prova a rispondere evitare di usare il verbo provare perché è andato direttamente al segno con questo ribadito più 4 questo canestro di Mur da tre punti perché quando un allenatore decide di affidarsi alla zona lo fa soprattutto subito la difesa zona e magari già dalla prossima azione Sassari lo potremmo rivedere a uomo e il ritardo 25 a 13 12 punti di differenza fra le due squadre ultimi secondi del match che affidiamo al commento di Francesco Guadalu in questa prima passione Mur in blocco di Agbelese prova a andare dentro il numero 1 Agbelese sull'ally-oop di Mur palla spettacolare per il numero 1 a tre secondi ancora Brindisi a recuperare l'uscita di Spangelo arriva Cardillo c'è Mur Mur un palleggio probabilmente da tre punti peccato dare un senso a questo nettissimo margine tra le due squadre intanto il gioco è ripreso e andiamo subito da Francesco Sticevic Delecchi Sacchetti Saranovic e Mese per Sassari per Lennel Goss Agbelese Spangelo Cardillo e Donzelli a 7-13 per questo inizio del secondo quarto continua o meglio torna a difendere a uomo Coach Pasquini Spangelo riuscita alta centrale di Gossi che prova a giocare il pick and roll con Agbelese torna subito Saranovic in marcatura sul numero 1 tiene il gioco a 2 Spangelo il ribaltamento per Goss che carica dall'angolo la 3-5 ci ha provato Lesi a rendergli tutto più difficile invece pulitissima l'esecuzione dall'angolo per Phil Goss adesso sono 17 di margine per Lennel che è a quota 30 dopo una manciata di secondi dall'inizio di questa seconda frazione vedremo come si concrediterà la reazione della formazione di Coach Federico Pasquini che va a trovare più semplice ritmo il numero 20 della Dinamo in lunetta per i due tiri una partenza lanciata dunque Francesco e non è l'aperto di tenere sempre i 2-3 piccoli in campo per contrastare i piccoli del Siano bene e altrettanto bene sta facendo Agbelese 30-15 più 15 per Lennel Spangelo dalla linea di fondo riesce a trovare lo scarico per Cardillo palla dietro la schiena la penetrazione di Cardillo che è italiano con lo stesso Cardillo i giovanissimi Donzelli e Spangelo Agbelese che di certo non fa parte dello start il fatto che Spangelo nel primo quarto i due canestre importanti è entrato subito nel match Goss è un giocatore d'esperienza Donzelli come dicevo in apertura per via dell'assenza di Joseph deve assolutamente dare il massimo in questa partita dove serve un ala forte da sostituire appunto Joseph e poi sotto canestro Agbelese oltre alla solita quinta di Cardillo mentre Stitto 30-18 per l'ex giocatore di Roma e il settimo personale Spangelo trova un parco dai 6-75 lo stesso Spangelo segue a canestro extra possesso privisi 14 secondi per attaccare la difesa sassarese in dopo di Agbelese un flicker roll Spangelo ancora uno scarico per Cardillo la penetrazione centrale l'assist per Agbelese due secondi al suono dei 24 questa volta il taglia fuori è il camato in banca dall'allenatore Federico Spangelo la pinta di Gossu uscire sul lato sinistro poi ancora Giorgio Nodom in faccia paggiatula numero 55 Donzelli penetrazione centrale lo scarico per Carter la 4-2-18 per Carter il settimo personale più 14 primisi 7 minuti 42 secondi alla pausa lunga Giorgio Nodom marcato da Gossu qui quasi restituisce il paura di difesa Carter centrale per Tenechi vorrebbe consegnato riesce Odom 3 secondi per andare a tiro Odom lo split passato tra due difensori fuori equilibrio riesce a registrare mette a segno il quarto personale 32-20 dall'altra parte Spangelo che guida lo schema centrale Carter la finta di taglio di Gossu non si intende con Carter perde il tetto statun'indirizzo dell'Enel 5 punti in marcatura su Sticevic attacca la Dinamo ancora Sticevic con Turur sale Laval per il blocco l'aiuto di Carter in taglio di Laval Scalambaia che lui deve tornare in angolo ha lasciato libero Odom spaglia ancora Sassani recupera Mur Brindisi può andare in zona numero in angolo Cempai e carica dai 6.75 l'errore al tiro salta Sticevic ma prima 32-20 qualche minuto di riposo ma anche di serenità dopo l'ira che lo aveva colto praticamente per quella decisione arbitrale e dunque come ricordava Francesco ci sono 12 di margine per l'Enel che attacca adesso con Chirigosa che riapre per Durant Scott ma c'è l'intervento di Carter che rimanda in attacco la formazione sassarese facilmente con il zona 85 alle ore 21 per approfondire i temi che emergeranno risultato a parte da questo match di stasera tra Enel Basch e Brindisi e Dinamo Banco di Sardegna Sassari mentre attaccano i fiancatori di Sacchetti ci prova Banco di Sardegna si fa battere anche un difensore uno specialista come Jack Devecchi movimento velocissimo quello di Amat Baie che scrive il nono personale 34-22 Odom sul blocco di Laval Piccarol va dentro Laval riesce a passi largo e poi il pallo di Mur canestro non è lontani Laval e Odom il blocco alto di Devecchi che può far lavorare per l'uscita di Sticevic Sciola Moore vince contro Moore 8 secondi per attaccare il ferro Carter Lex Siena vorrebbe trovare l'angolo di passaggio per Laval poi va dentro cambia mano va a sbagliare un canestro già fatto poi l'errore di Laval il piccolo Moore fa la voce grossa e poi regala un pallone a Johnson Odom doppio passo mano sinistra va a realizzare un po' un errore visto anche da Vellino era su tutte le furie coach Federico Fasquini per il doppio errore nel cuore dell'aria lavorosamente dunque la Dinamo ha sprecato la possibilità di mettere dentro altri due punti ma poi per un buon intervento difensivo è andata a canetto con il gioco la semi attacca Brindisi centrale Moore 14 secondi da sfruttare per attaccare la difesa uomo ordinata da Pasquini Maie il taglio di Goss che lavora bene senza palla l'uscita a Ricciolo la sospensione è un alley-oop perfugge Maie dall'altra parte in palleggio Odomo Leisi posizione frontale l'uscita di Sticevic inseguito da Moore si propone per un gioco a due Olaseni il fa fidata Spanghero in supporto anche Phil Goss rimessa effettuata Spanghero va a marcare l'esee mentre dura Scott su Sticevic c'è l'aiuto di Carter il taglio di Olaseni De Vecchi trova un barco penetrazione centrale si allunga 26 secondi nel secondo quarto Baie il consegnato per Scott lontano dall'azione sul lato destro segue Goss Scott l'arresta e tira il primo ferro però lega i due punti al giamecano dall'altra parte già Odomo in palleggio il blocco di Olaseni il solito pick and roll si libera sul lato sinistro De Vecchi invece c'è De Vecchi ex giocatore visto a Pezzaro e c'è l'uscita di De Vecchi il pallone per il capitano in bagno numero 8 il consigliato per De Vecchi il numero 7 prova a sfidare la difesa biancatura il ribaltamento quasi a perdere il pallone per Johnson Rotom il taglio di Olaseni ancora palla dietro la linea dei tre punti De Vecchi per De Vecchi che prova dai 6.75 il pallone cade nelle mani di Goss a vuoto il tentativo di ribasso di Olaseni Baglie la penetrazione la chiusura di De Vecchi corpo a corpo 3-2 e poi sono sia Mazzoni che Calvucci che ha utilizzato Pierpaolo anche quando era coach Sacchetti l'allenatore di Sassari ha utilizzato a marcare i giocatori più pericolosi soprattutto i numeri 4 essendo meno dotato fisicamente di Baglie era tenuto era riuscito a tenerlo però chiaramente a quel punto contro la maggiore 11 punti prova la pressione a tutto campo coach Sacchetti poi boss in marcatura su Johnson Rotom Spangero su Stipcevic 3 minuti 36 secondi alla palla sullunga il palleggio Lesi lavora riceve senza palla Johnson Rotom solito blocco alto di Olaseni che poi va dentro Gossi il raddoppio di Carter il pallone recuperato da Mbaie il tocco di De Vecchi succede di tutto tanto agonismo in questo secondo quarto Spangero il pene prescarica è un regalo per Johnson Rotom che prova a far partire il contropiede Sassarese lo scarico per Lesi da tre punti l'errore al tiro il rimbalzo scoppiano da Olaseni Johnson Rotom contro tempo tocca costa ancora al rimbalzo alla meglio Prince con Amat Maie che supera il palleggio la metà a campo punta l'avversario vorrebbe in blocco poi chiude il palleggio si affida a Spangero 15 secondi per canestro Spangero il palleggio il taglio di Tos vuole e riceve in posizione di post basso Maie Maie contro Lesi vinta la partenza in allontanamento il pallone è corto la forzatura del francese nulla di fatto 38-26 Rydisi che mantiene 12 di vantaggio Ticcevic penetra e scarica per Tenecchi sotto canestro Libero Lesi dalla media prova Olaseni ancora un errore per il centro di 2 metri e 10 Ibrini si può sfruttare questo possesso Spangero pallone dietro la schiena per Carter giro dorsale Carter si aiuta col tabellone sbaglia a rimbalzo Goss non riesce a recuperare tanti errori da una parte e dall'altra è la volta i sassari il gol di Olaseni Sticcevic gioca bene il pick and roll Olaseni che poteva andare dentro preferisce rifaltare Denecchi dalla posizione di guardia ancora un errore al tiro per la formazione di coach Pasquini 38-26 ultimi due minuti del secondo quarto Spangero manda via Baia vorrebbe il gioco a due con Carter servito adesso il centro statunitense Goss per il pick and roll e viene mischiati tanto nervosismo forse buone difese buone difese sicuramente ma c'è un errore che secondo me sta commettendo Brindisi in questi minuti è proprio quello di continuare a tenere ritmi alti considerato il vantaggio dovrebbe provare ad abbassare un po' i ritmi prima nella pausa lunga il falleggio Goss il blocco di Carter l'aiuto subito di Olaseni è libero Carter potrebbe ribaltare lo fa per un tiro aperto di Dura Scott la soglia avanti 41-34 con la Fiat Torino al diciannovesimo 41-26 a Brindisi lo ricordiamo tra Enel e Banco di Sardegna Sassari Caserta più tre su Brescia infine Trento Milano e Reggio Milia avventa l'arcapo d'Orlando che si giocheranno tra stasera e domani a te Francesco il rimbalzo di Donzelli dopo l'errore al tiro di Carter Goss tranquillamente supera la metà a crampo ultimo minuto il gioco nel secondo quarto Goss chiede l'uscita di Scott riceve il giamaicano con il palleggio su blocco di Carter 7 secondi per il tiro Scott punta l'avversario scivola lo scarico per Carter da mani liberi 45 secondi alla fine del secondo quarto silenzio del palamento a Sulla sbaglia 7.5 media partita dalla lunetta 36 su 52 nelle gare disputate Spagna 0 su 2 69% le sue percentuali e tiri liberi nulla di fatto dunque il primo secondo mantiene 15 di vantaggio un tinge vince in palleggio il blocco di Ola 6 il solito pincere ma dentro un tinge vince si va a chiudere sulle linee di fondo Calpesta entro anche Mur tre piccoli per Conci Sacchetti riceve Mur differenza di 8 secondi tra i due cronometri in palleggio Mur supera la metà campo la difesa un uomo quella chiesta da Paschini da Paschini e i suoi Cardillo prepara il blocco per l'uscita di Boss ma c'è Stipcevic faccia a faccia sulle statunitense riesce a ricevere adesso Boss in penetrazione lo scarico per Cardillo mette una mano da Vecchi recupera palla Stipcevic Stipcevic l'assist e poi c'è il fallo di Cardillo a secco aggiura della Dynamo in lunetta per il tentativo di completare un'azione da tre punti cosa che non gli riesce rimbalzo di Amanbaie scorrono i secondi Brindisi può andare in attacco il pallone per Nick Moore che rimette nelle mani di Amanbaie finito il tempo che smutta all'osso gli ultimi secondi per smuttare l'indicazione di Gosh Maffezoli attacca Brindisi difesa uomo per questo inizio di terzo tempino Carter segna a Goss Goss contro Stipcevic l'instancabile Rock Stipcevic a disturbare Maie prova a giocarsi la spalla a canestro otto secondi per il tiro l'assist per Carter che va a deposare Calma Brindisi è riuscita ad attaccare i raddoppi ordinati da Pasquini dall'altra parte con Andi Stipcevic accompagna Goss centrale Samanovic che prova da tre punti secondo ferro rimando facile per Scott guarda avanti però c'è l'eser a disturbare ancora Scott contro l'ex Pesaro il blocco di Baie che va dentro inseguito da De Vecchi servito spalla a canestro la via di fondo c'era un doppio di Samanovic ripaltamento per Burri taglio di Carter ancora otto secondi per il tiro ci pensa Goss la parabola secondo me in questo quarto in questi punti in particolare si decide forse il match Brindisi è partito con il suo miglior quintetto il quintetto base già visto nel primo quarto Sassari al contrario ha schierato un quintetto atipico col giovane Monaldi Stipcevic Savanovic diciamo non ha molto talento in questo momento il campo Sassari e Brindisi ne ha subito approfittato Monaldi il taglio di Savanovic il ribaltamento all'altro destro dove De Vecchi sul suono dei 24 prova da tre punti l'errore ancora Scott a recuperare un rimbalzo lo stesso numero 2 porta a spasso i difensori paga quest'aiuto Savanovic regalando la conclusione da tre punti a Scott che poi sbaglia il ribaltamento di Monaldi chiama a sé De Vecchi scambio di due lo stesso numero 32 il passaggio per l'esee penetrazione centrale Savanovic gli scivolamenti difensivi di Scott il raddoppio di Carter ribaltamento lato sinistro Sticevic in angolo la pinta in palleggio è corto il pallone lo stesso numero 24 va a recuperare un extra possesso andiamo allo schema testa sale Savanovic il pick and roll taglia il serbo ancora Sticevic che punta Carter vuole l'uno contro uno Sticevic passa sotto canestro lo scarico per Savanovic ancora un'azione sul suono dei 24 però sbaglia la squadra di coach Pasquini ne approfitta Brindisi Moore passa sul blocco di Carter arresto il tiro dalla media l'errore Carter extra possesso questa volta per Brindisi in vai è fuori per Goss libero potrebbe tirare per il taglio di Scott che va a realizzare in lunetta pronto per completare un'azione da tre siamo il più 21 che è il nuovo massimo vantaggio della formazione di casa con 7 minuti e 15 secondi da giocare Sticevic il tiro da fuori completamente sbagliato ma riesce a controllare il possesso del pallone ancora la formazione sanzarese gli esterni sanzarese che stanno faticando parecchio Savanovic dà appoggio per la rimessa poi consegnato su Lisi Carter deve tornare in marcatura vai e fa attenzione su Savanovic occhi a seguire per il croato palla per Denecchi la finta di giro va dentro Denecchi lo scarico per Savanovic un solo secondo ancora un errore Carter strappa dalle mani di Lisi la palla ma è l'uomo dei rimbalzi questa sera sputta la statura sputta anche in questa terza frazione e sono trascorsi tre minuti e otto secondi il libero 11 a 0 e questo il break categorico la partenza bruciante dell'Enel nella terza frazione 52 a 28 tutto diventa più difficile per la squadra isolana ancora un errore in attacco il ribalzo di Amanbaie e poi Robert Carter a cercare la via del canestro si gira e trova un giocatore che sta crescendo tantissimo nell'arco di questo girone di andata è il tredicesimo punto per Carter dall'altra parte Savanovic il fallo in attacenti Preschetti con Spanger su Sticevic il passaggio del croato Odom vuole puntare l'avversario ma viene fermato il gioco alto Sacchetti in blocco basso per l'uscita di Gionton Odom ancora Sacchetti per il taglio di Sticevic segnito in angolo adesso il croato lottano Gani Aguelese rimesso a fondo per la Dinamo Lesi servito Gionton Odom ancora si propone spalla a Canesco Laval Laval contro Aguelese passo in crocio palla Gani Laval che ricordiamo indossare la casacca della Virtus Roma e forse l'abbiamo scoperto proprio in basket adesso in difficoltà nella seconda serie nazionale intanto la squadra di Solano già effettuata da Gionton Odom il pallone nelle mani di Sticevic il blocco secco di Laval il taglio di Gionton Odom ancora Laval non viene servito e Gionton Odom che vuole giocare spalla a Canesco solito movimento visto in precedenza sul lato sinistro questa volta non va il rimasto conquistato da Aguelese per Spangelo voleva palle numero uno non viene servito Spangelo provvedisce un'azione ragionata 16 secondi per gestire questo pallone Moore il taglio va in angolo Moore accompagnato il taglio di Agbelese Moore prova da tre punti sbaglia palla recuperata da Sticevic ultimi 47 secondi del terzo quarto Laval contro Agbelese passi in partenza nel terzo tempino sempre una zona 2-3 abbastanza larga con la pressione sugli esterni Sticevic attento l'eventuale palleggio di Moore servito Agbelese ancora Spangelo 8 secondi per trovare il tiro Spangelo prova a forzare vede l'arrivo di Moore la sospensione di Moore tocca solo il tabellone palla nelle mani di Mese chiama lo schema a testa dalla panchina Pasquini si gioca con un solo cronometro 14 secondi per il suono della terza sirena Mazzoni guarda Bartoli dice fai attenzione a Cardillo e Johnson Odom la penetrazione di Mese è uno sfondamento mette le mani Mese servito Goss da Spangelo 5 secondi Goss 3 secondi prova a penetrare Goss la stoppata di Mese Sticevic Sacchetti Laval e Johnson Odom non cambia sul tetto Pasquini Spangelo Agbelese Baglie Goss e Cardillo per Brignisi difesa uomo per i VH2 Odom serve Lesi ancora 11 secondi per dar al tiro Sacchetti un palleggio poi consegnato il blocco rimane inchiodato Spangelo Odom finta il tiro prova a Lesi dalla posizione di guardia secondo ferro saltano il 3 a rimbaso alla meglio Gani Laval che di prepotenza si sgola Pasquini dalla panchina ancora una zona pronte pari una 2-3 al centro dell'aria c'è Laval che accompagna il taglio del lungo Baie fa saltare l'avversario l'errore al tiro palla che cade nelle mani di Stimcevic velocissimo il pallone per Johnson Odom da 3 meglio di sé comunque stia fornendo una prestazione importante quella che alimenta le speranze di recupero della formazione di coach Pasquini che adesso è scesa sotto la doppia cifra di ritardo come ricordava Francesco 64 a 47 Marco Spangaro due secondi bisogna tirare non c'è il tempo e finisce l'azione da gestire con la massima saggenza Francesco Spangaro scotta in baglie difesa uomo in palle Giusticevic scutta il blocco di Laval arriva in angolo Sacchetti su di lui c'è Baie Sacchetti prova a portare spalla a spalla poi vedi il taglio di Johnson Odom pronto in radocchio ma poi l'assist fallo sul numero 31 il primo libero Vadore cresciuto nel non costa High School in Tastuglia viene incoraggiare il quintetto di coach Sacchetti Goss varia la difesa coach Pasquini sempre un uomo dalla media sbaglia baglie momento sfavorevole per l'attacco Bianca Turro Johnson Odom per Sacchetti in angolo lasciato libero Sticevic prova da tre punti l'errore palla che fa nelle mani di Spangaro c'è Agbelese Spangaro lo vede quasi rischioso il passaggio poi Agbelese chiuso da Sacchetti perde il pallone nulla di fatto 64-49 Agbelese chiede a Sacchetti di prendere posizione spalla a canestro Laval dalla media sbaglia conquistato da Scott coach Sacchetti invita la calma i suoi e chiede a Nick Moore di andare sul cubo del cambio c'è la formazione brillissima però che può sfruttare questi 14 secondi per attaccare la zona 2-3 Spangaro la assist per Agbelese un'ottima lettura della difesa a zona concludendo con un penetra scarica che è quello che Brindisi dovrebbe fare normalmente contro questa difesa che non sta facendo però pallo di Cardillo infine il centro e Agbelese attacca la Dinamo l'esil la sospensione i due la squadra di Pasquini che continua a difendere sempre a zona Goss attento Sticci vince sul passaggio di ritorno con Serge pur a giocare molto lontano da Canestro Scott carica da tre punti l'errore attivo c'è Agbelese extra possesso Brindisi un palleggio poi fuori per Goss prima Moore Cardillo passa da sotto Canestro in reverse ancora un errore va a commettere il pallo la stagione che conta se c'è qualcosa che manca davvero a Brindisi è un lungo di peso un lungo di esperienza e queste sono le situazioni in cui viene e ora Sassari a meno 15 ha la possibilità di rientrare in partita tra l'altro Sassari che sta giocando con tre piccoli Timcevic Lisi e Johnson Lodom Johnson Lodom prova la penetrazione fallo di squadra per l'Enel invece sono zero i falli per la formazione Sassarese Johnson Lodom per Stigcevic spalla a canestro Lavazzi gira e tira prova con l'Enel il tabellone errore il ribatto conquistato da Scott prova a spingere lo stesso numero due il blocco Bianchvelese Scott serie di finte servito Goss dalla posizione centrale i canestri che sono mancati a Brindisi negli ultimi minuti canestri importanti che spaccano la partita e soprattutto il titano morale al contrario lo tolgono gli avversari Lisi chiude il palleggio Cardillo a vuoto l'alley up per il giocatore nella formazione isolana 69.53 5 minuti 18 secondi alla fine del match Cardillo trova un parco va dentro chiude il palleggio servito però Goss 8 secondi per il tiro Goss porta spasso Brian Sacchetti servito ancora Dura Scott che va in controte Scott il secondo cecchino della formazione predisina con passaporto giamaicano ancora 5 minuti e 6 secondi alla fine del match Spangaro e Moore Moore in mancatura sull'esee mentre Spangaro su Stipcevic due blocchi per l'uscita di Sacchetti Cardillo contiene Sacchetti che va a giocare spalle a canestro centrare Johnson Odom sbaglia tocca Cardillo togliendo il pallone dalle mani di Daval può ripartire Brindisi Spangaro per Moore Moore in penetrazione li toglie il pallone Johnson Odom ancora Moore che riesce a servire Spangaro 13 secondi per andare in tiro Spangaro mette a posto i compagni può iniziare l'accendere d'attacco ma bisogna affrettarsi Spangaro ancora vede il taglio di Cardillo palla dietro la schiena di Cardillo in penetrazione Marco ma l'amore della tifoseria c'è e si fa sentire 7-3-5-3 e si gioca si gioca con Johnson Odom che trova che ci separano dalla conclusione del match attacca Nick Moore in palleggio il pick and roll con Agbelese che va dentro torna in marcatura Laval palla nelle mani di Spangaro Spangaro porta a passeggio Stimce dice poi prove 5 nuovamente 20 punti di differenza dall'altra parte Sacchetti al limite del fallo la pressione di Cardillo Johnson Odom spalla a canestro vede il taglio di Olaseni in controtempo va a sbagliare ancora Cardillo rimessa effettuata Carter contro Spangaro alto esce Johnson Odom che perde il pallone molto bravo Moore in tuffo ancora Nick Moore e poi strappano sempre un applauso e fanno bene a questo sport solo nei 24 ancora una volta la palla per Cassuglia Lenel che può attaccare contro la difesa all'uomo della Dinamo il blocco di Agbelese Moore il pallone per Agbelese c'è il taglio di Cardillo Agbelese va a complicarsi la vita la stoppata che sembra una veloce di pallavolo di Laval Odom dall'altra parte il taglio continuo a tenerlo in campo nella speranza che si possa sbloccare perché in effetti in queste ultime partite l'unica Sticcevic preferisce servire per il più una lunga distanza Carter sulla partenza ancora Dinamo che può sfruttare i 24 secondi Sticcevic il solito gioco a due con Laval che va dentro delle scalare Scott la palla arriva sull'esterno Carter che va in controtempo a sbagliare permette di andare a canestro Sticcevic riceve non ci pensa due volte tira l'errore rimbalzo conquistato da Ambaie che poi serve Moore Spangero in contropiede lo scarico per Scott non tira si preferisce l'azione ragionata sulla partenza